Per selezionare una marcia dalla posizione di parcheggio, premere il pedale del freno e premere l'attivatore del cambio per poter spostare il selettore in avanti o indietro e selezionare la marcia. Con un movimento all'indietro si seleziona la posizione di marcia. Con un movimento in avanti si seleziona la posizione di folle, mentre con due movimenti in avanti la retromarcia. Sulla parte superiore del selettore si accende una spia che indica la selezione effettuata. In questo esempio selezioneremo la retromarcia da una posizione di parcheggio, partiremo, selezioneremo la modalità sportiva e parcheggeremo il veicolo. Per avviare il veicolo premere il pedale del freno e il tasto Start-Stop. Il selettore Sport Shift assume la posizione predefinita di parcheggio. Tenendo premuto il pedale del freno, premere l'attivatore del cambio e spostare il selettore in avanti verso la posizione di folle e quindi di retromarcia. Se viene rilasciato, il selettore torna in posizione centrale. Sulla parte superiore del selettore si illumina la lettera R, che compare anche nel centro messaggi a conferma della selezione. Rilasciare il pedale del freno e manovrare il veicolo come necessario. Per passare dalla retromarcia alla marcia, tenere premuto il pedale del freno finché il veicolo non si ferma. Avviso Non selezionare mai la marcia avanti mentre il veicolo si sposta all'indietro, per evitare di arrecare seri danni alla trasmissione. Assicurarsi che il pedale del freno sia completamente premuto, quindi premere l'attivatore del cambio e spostare il selettore all'indietro verso la posizione di folle e di marcia. Rilasciare il pedale del freno e manovrare il veicolo come necessario. In modalità di marcia, spostare il selettore verso sinistra per selezionare la modalità sportiva. Se viene rilasciato, il selettore resta nella posizione sportiva. Con la posizione sportiva selezionata, è possibile spostare il selettore in avanti per scalare di una marcia e indietro per passare a una marcia superiore. Per tornare alla modalità completamente automatica, riportare il selettore in modalità di marcia. Per passare alla posizione di parcheggio, premere il pedale del freno finché il veicolo non si ferma, quindi premere il pulsante P. Inserire il freno di stazionamento prima di premere il tasto Start-Stop per arrestare il veicolo. A veicolo fermo, non lasciare mai una marcia inserita e il motore acceso. Se il motore è al minimo per un periodo prolungato, selezionare N e inserire il freno di stazionamento. Per maggiori informazioni su questa funzione, consultare il manuale dell'utente. Per ulteriore assistenza, contattare il concessionario.